ho già uscito la parte che mi interessa di due laterali delle gambe e adesso vado a riprendere i punti come vi ho fatto già vedere in un altro tutorial di cui poi vi metterò il link sotto questo video la misura è a vostra discrezione io ho scuscito quello che serve a me per allargare dato dei punti di imbastitura ad entrambe le gambe portando le aperture agli stessi centimetri ho scuscito vedete anche la piega che aveva il fondo della gamba e fatta un imbastitura della stessa misura dei laterali è circa mezzo centimetro così da tirar fuori punti tutti della stessa lunghezza sono partita da una delle cuciture ho tirato fuori punti dal fondo e adesso girò tutto intorno all'apertura anche del laterale preparato il laterale e il fondo adesso andrò a creare un piccolo bordo decorativo soltanto al posto della piega e questo è il bordo che ho già lavorato partendo da uno dei lati mi vado a riagganciare con il primo colore in questo caso ho scelto un blu elettrico e vado a lavorare un giro di mezzo filet quindi mi vado a riagganciare e aggancio con un punto bassissimo lavoro 4 catenelle per il primo punto alto e una catenella di spazio carico il filo salto un punto vado nel successivo e chiudo il mio quadretto con un punto alto una catenella carico il filo salto un punto vado nel successivo e chiudo il quadretto e lavoro come vi dicevo un giro di mezzo filet tutto intorno al fondo della gamba non andrò a lavorare l'apertura laterale perché la lascerò soltanto con la rifinitura che ho fatto tirando fuori i punti in precedenza terminato il giro a mezzo filet vedete che ho già staccato il filo e ripartendo sempre dallo stesso lato con il dritto fronte a noi con l'altro colore adesso vado a lavorare tutto un giro di punti alti lavorando un punto sulla maglia un punto nello spazio mi vado a riagganciare con il panna questa volta un punto bassissimo 3 catenelle per il primo punto alto carico il filo vado nel primo spazio e lavoro il punto alto carico il filo un punto alto sul punto alto che mi chiude il primo quadretto carico il filo un punto alto nello spazio e contemporaneamente cerco di nascondere mi vedete anche le codine del filato così già da avere un lavoro pulito ho terminato anche tutto il giro a punti alti mi vado a riagganciare sempre dallo stesso lato con il verde questa volta vado a creare le foglioline del bordino mi aggancio con un punto bassissimo rientro nella catenella in cui mi sono agganciato e lavoro un punto basso contemporaneamente alla lavorazione mi vado a nascondere le codine lavoriamo due catenelle carico due volte il filo salto 4 punti di base 1 2 3 4 vado nel quinto e lavoro una maglia alta doppia non chiusa completamente carico di nuovo il filo rientro nel quinto punto e lavoro un secondo punto alto doppio chiuso a metà carico di nuovo il filo rientro sempre nello stesso punto e lavoro un terzo punto alto doppio chiuso per metà vado a chiudere adesso tutti i punti che ho sull'uncinetto lavoro 4 catenelle 1 2 3 e 4 punto sempre alla base del punto in cui ho lavorato tutte e tre le maglie alte doppie così assieme e vado a chiudere le 4 catenelle con un punto bassissimo 4 catenelle 1 2 3 e 4 carico due volte il filo rientro sempre nello stesso punto in cui ho lavorato la prima fogliolina e vado a lavorare altre tre maglie alte doppie chiuse assieme 1 2 e 3 chiudo adesso tutte le maglie lavoro 2 catenelle salto 4 punti di base 1 2 3 4 vado nel quinto il lavoro un punto bass e questo è il mio punto di ripetizione per tutto il giro ve lo faccio rivedere di nuovo faccio le due catenelle 1 e 2 che sono le catenelle dello spazio carico due volte il filo salto 4 punti di base 1 2 3 4 vado nel quinto e lavoro tre punti alti doppi chiusi assieme lavoro il primo lavoro il secondo lavoro il terzo vado a chiudere adesso tutti i punti alti doppi faccio 4 catenelle 2 3 e 4 punto sempre alla base delle tre maglie alte doppie così assieme e chiudi 4 le 4 catenelle con un punto bassissimo vado a fare l'altra fogliolina 4 catenelle carico due volte il filo rientro sempre alla base della dello stesso punto di lavorazione e vado a lavorare la seconda fogliolina con le tre maglie alte doppie chiuse assieme 2 e 3 vi metterò poi in pagina sulla pagina facebook elfica sauce lo schema completo del bordino lavoro le due catenelle salto quattro punti di base vado nel quinto e chiudo l'archetto con un punto basso e ricomincio fino a completare tutto il giro la riga termina così come l'abbiamo cominciata con due catenelle e un punto basso saltando quattro punti di base portiamo adesso e facciamo la riga ritorno che è per lo stelo dei fiorellini lavorato sempre con il verde 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 carico quattro volte filo vado al centro delle due foglioline vedete estraggo che chiudo la mia maglia alta quadrupla una catenella carico due volte il filo vado sul secondo incrocio della maglia alta quadrupla entro attraverso le tre asoline due devono stare sull'uncinetto estraggo e chiudo il primo punto alto doppio una catenella carico due volte il filo rientro dove ho lavorato il primo punto alto doppio sul secondo incrocio della maglia quadrupla e lavoro il secondo punto catenella carico due volte il filo perché la prima è data dalla maglia alta quadrupla una catenella carico due volte il filo rientro sempre nello stesso punto vado a lavorare il punto alto doppio che è il quarto un quinto punto alto doppio e questo è il calice del nostro fiorellino lo stelo è dato dalla maglia alta quadrupla lavoro 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 carico il filo vado sul punto basso che divide un gruppo di foglioline dall'altro e lavoro un punto alto questo è il motivo di ripetizione per tutto il giro faccio rivedere 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 una maglia quadrupla quindi carico 4 volte il filo sull'uncinetto vado al centro delle due foglioline e chiudo il punto alto quadruplo per intero vedete così carico una catenella carico due volte il filo vado sul secondo incrocio questo è il primo e questo è il secondo entro sul secondo incrocio della maglia e vado a lavorare 5 maglie alte doppie separate da una catenella sempre puntando l'uncinetto sul secondo incrocio della maglia alta quadrupla 2 3 3 4 e 5 che con la prima la l'altra metà della maglia alta quadrupla formano un ventaglio di sei punti 1 2 3 4 5 e 6 quindi di cinque catenelle 2 3 4 e 5 carico il filo una volta per la maglia alta entro nel punto basso che divide un gruppo di foglioline dall'altro e chiudo la sequenza con il punto alto e continuo lavorando tutta la riga il giro lo chiudiamo con una maglia alta quadrupla carico quattro volte il filo vado nella maglia bassa iniziale del giro sottostante e chiudo il punto ecco qui adesso fisso il filo e andiamo a lavorare l'ultimo giro la corolla del fiore faccio il mio solito cappietto iniziale in questo modo parto sempre dallo stesso lato mi aggancio all'apice del punto quadruplo che abbiamo chiuso e inizio la lavorazione della corolla mi aggancio sempre con un punto bassissimo mi sistemo i fili da nascondere io odio nascondere i fili alla fine del lavoro per questo lo faccio in corso di lavorazione vado sul primo punto del ventaglio di sei maglie entro e mi aggancio con un punto bassissimo lavoro 3 catenelle per il primo punto 2 e 3 carico il filo rientro sempre nel primo punto e vado a lavorare altre due maglie alte quindi una e due per ogni punto del ventaglio andremo a lavorare tre punti in questo ordine sul primo punto tre maglie alte sul secondo punto altre tre maglie alte 3 sui due punti centrali andremo a lavorare tre punti alti doppi in uno e tre punti alti doppi quindi carico due volte il filo e vado a lavorare i primi tre punti alti doppi due e tre vi ricordo che la lavorazione la stiamo facendo dritto fronte a noi carico due volte il filo vado nel punto successivo il lavoro altri tre punti alti doppi due e tre mentre nei due punti rimanenti andiamo a lavorare tre punti alti doppi tre punti alti in uno e tre punti alti nell'altro quindi carico il filo vado nel penultimo punto il lavoro i tre punti alti due e tre tre punti alti sull'ultimo punto del ventaglio sottostante uno due e tre e questa è tutta la sequenza di lavorazione per tutto questo giro per tutto questo giro tra un fiore e l'altro non ci sono catenelle di separazione quindi carico il filo vado sul primo punto del fiore successivo e lavoro i miei primi tre punti alti uno due e tre tre punti alti nel successivo tre punti alti doppi nei due punti centrali uno uno due e tre tre punti alti doppi nel seguente tre punti alti nel penultimo e continuo in questo modo per tutto quest'ultimo rigo di lavorazione e questo sarà il risultato finale potete lavorare questo bordo su qualsiasi progetto si lavora su un multiplo di 10 più 1 spero che il video vi sia piaciuto lasciatemi un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le anteprime dei prossimi video a presto a presto